Ciao a tutti, la fine di un amore può far male ma si supera. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità e benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, la fine di un amore può far male perché, per chi può far male? Perché, diciamo, fa rivivere degli imprinting, soprattutto degli imprinting legati all'abbandono, in cui in un tempo precedente, diciamo così, quando si è vissuto l'abbandono si è sofferto. L'abbandono, diciamo, che è una delle più grandi fonti di sofferenza dell'essere umano ed è la cosa più simile che c'è alla morte, perché nella morte il nostro corpo ci abbandona. ci abbandona. Ci abbandona anche la nostra mente, diciamo così, no? Quindi avviene questo fatto. Ma l'abbandono però lo viviamo anche alla nascita, dove noi abbandoniamo un luogo sicuro, abbandoniamo un porto sicuro. Quindi ogni volta che si vive un abbandono, da un punto di vista sentimentale, affettivo, ci si va a reagganciare per assonanza a queste caratteristiche, cioè a questi fact, a questi imprinting, per cui la sofferenza può essere rivissuta. In realtà non è tanto per quella persona che ci ha lasciato, perché se ragioniamo da un punto di vista logico e razionale, basterebbe dire, beh, se uno vuole andarsene e che se ne vada, ci sono 8 miliardi e fischia di persone, vuoi che non ne trovi un altro o un'altra che possa essere meglio di questo, che possa darmi più gioia, più serenità, più tranquillità. Certo che è possibile, anzi, sarebbe difficile che non accadesse. Però è ovvio che riscatenando, diciamo, questi imprinting legati all'abbandono, la sofferenza si vive e quindi si può soffrire. Però si supera, perché noi siamo strutturati apposta per superare. Nasciamo e superiamo la nascita, moriamo e superiamo la morte. Uno dice, beh, la morte finisce tutto. Ma io non credo, credo che ci sarà un'altra rinascita. Però diciamo che comunque siamo strutturati per superare. Quando è che si stenta a superare, la sofferenza rimane più a lungo, poi si supera comunque? Beh, quando andiamo a rimuginare, quando andiamo a dirci perché è successo, non doveva succedere a me, sono sfortunato. Cioè quando entriamo in un loop praticamente di riflessione eccessiva, stare a pensare eccessivamente sul perché, sul come, perché è successo, non doveva succedere, come faccio adesso, come non faccio. Tutto questo rimuginare è quello che fa, prolunga l'agonia, prolunga la sofferenza, diciamo così. E invece lasciare andare le cose, viverle più tranquillamente, viverle, diciamo, senza problematiche, viverle liberamente, è quello che ci fa invece, sì, vivere la sofferenza, ma fa sì che la sofferenza, come è venuta, se ne vada e come è venuta possa lasciare spazio, diciamolo così, a nuove possibilità, possa lasciare spazio a una nuova vitalità, possa lasciare spazio a un nuovo benessere, possa lasciare spazio al nuovo, perché quando una cosa finisce, quando viviamo un abbandono, comincia qualcosa di nuovo. Nella nascita, come dire, quello che viene vissuto come abbandono, cioè il fatto che lasciamo questo luogo sicuro, che è il ventre materno, però ci dà la possibilità di esplorare un altro luogo, che diventa il mondo. Tutte le trasformazioni, non è detto che siano tutti cambiamenti, che siano peggiorativi. Un bruco, diciamo così, nella sua trasformazione diventa farfalla. E questo è anche noi, diciamo, nella fine di un amore possiamo trarre tante possibilità, la possibilità di fare esperienze diverse, esperienze nuove, però non dobbiamo stare a rimuginare. Ecco, quindi il segreto per ridurre al minimo, indispensabile, la sofferenza per amore è quello di evitare il rimuginare, vivi e non pensare. Si concentrato sul tempo presente e vedrai che non avrai necessità di soffrire più di tanto. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina di Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale, Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!